L'operazione Trasparenza condotta da Campo d'Allorto a Viale Mazzini sta destabilizzando dipendenti e conduttori televisivi, tanto che l'azienda ha diffuso una circolare interna in cui si vietano esternazioni e divulgazioni di notizie e documenti. La giornalista del tempo Francesca Pizzolante però non si è lasciata intimorire e ha contattato moltissimi presentatori chiedendo loro, senza troppi giri di parole, a quanto ammonta il cachet percepito in Rai. La scomoda domanda è stata rivolta tra gli altri a Fabrizio Frizzi, Franco Di Mare, Flavio Inzinna, Giancarlo Magalli e anche Salvo Sottile, Eleonora Daniele, Marco Liorni, Elisa Isoardi, Carlo Conti, Antonella Clerici o Lucian Annunziata. La reazione comune è stato un fuggifuggi generale, alcuni si sono fatti negare, altri non hanno risposto. Qualcuno però ha accettato la sfida, tra questi Tiberio e Timperi e Milena Gabanelli. Lo storico conduttore di Uno Mattina ha risposto Io guadagno mediamente 3.000 euro lordi a puntata, sono circa 70, quindi siamo sui 210.000 euro lordi. Sono, badate bene, un esterno e di questa somma il 52% va via in tasse. La giornalista di Report ha detto Il mio compenso dipende dal numero di puntate, quindi è vario. Mediamente 200.000 euro lordi l'anno, contratto di lavoro autonomo che scade ogni anno a fine produzione. Curiosa la posizione di Salvo Sottile, che in risposta all'SMS ha scritto alla giornalista del tempo Questo è il mio numero privato e non rispondo a chi non conosco. Se vuole un'intervista può contattare l'ufficio stampa della Rai. Buona giornata!